Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation La scarpa più comoda del mondo La scarpa Callaghan Adaptation Total grazie al suo sistema unico al mondo si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi Grazie a Callaghan Adaptation i tuoi piedi tornano a sorridere Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation Arti sonanti Media musicali di Ernesto Giannotta Il gusto che suona è Arti sonanti Piazza Vittoria Emanuele II Catania Telefono 095 35 23 711 Centro commerciale ed ile Smontaggio amianto e bonifica sito Linea vita Sistemi anti caduta Lavorazione ferro Trasporto conto terzi Materiale ed ile Strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco Catania Per sopralluoghi Preventivi gratuiti Telefona 095 744 2740 Il tuo centro commerciale ed ile www.ccevile.it www.ccevile.it Baccalluzzo e venti La pirotecnica scenografica Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e venti Via Enrico Pantano 47 Catania Telefono 095 715 0414 Telefono 095 715 0414 Ben trovati su Globus Radio Station D'Antonella Williamino E Sara Russo Oggi notizie dal mondo Parleremo di cronaca, cultura, spettacolo E molto altro ancora Con le nostre notizie che sono sempre le più curiose E le più intriganti Al via la quarta edizione di Tango d'autunno Diana Neveira e Fernando Sanchez Sono stati gli ospiti illustri di questa kermesse Organizzata da Caminito Tango Dal sapore autunnale Si è svolta dal 28 ottobre al 3 novembre Un popolo tanghiero in grande fermento Questo è quello che ha fatto da sfondo Alla kermesse Tango d'autunno Ormai giunta alla sua quarta edizione Organizzata da Caminito Tango Con il supporto logistico dell'Accademia Progetto Tango Fra la splendida cornice di Palazzo Biscari E le raffinate atmosfere dell'Empire Di via Zolfatai di Catania Dal 28 ottobre al 3 novembre Tra i numerosissimi afficiadones della disciplina Hanno vissuto una settimana di pura emozione Lorenzo Licitra incanta Ragusa Standing Ovation al Palatenda di Ragusa Per il concerto di Lorenzo Licitra Accompagnata dalla Beppes Rezzo Orchestra 18 brani musicali Atmosfera ideale con un palcoscenico Ricco di luci stratoscopiche Al Palatenda di Ragusa Per il concerto del giovane tenore di Citra Accompagnata dalla Beppes Rezzo Orchestra Formata da sei elementi Lo scorso 26 ottobre a Ragusa Si è registrata una serata All'insegna del Bel Canto Secondo Memorial Orazio Zaccà Il resoconto della manifestazione Partecipatissimo evento In nome del binomio Sport e Solidarietà Una folla oceanica si è riversata Nei locali della sezione di Catania Del tiro a segno nazionale Dove a conclusione delle giornate di gara Si svolta la cerimonia di premiazione Del secondo Memorial Orazio Zaccà Quest'anno la seconda edizione della competizione È stata caratterizzata dal binomio Sport e Solidarietà Infatti tutti i proventi delle iscrizioni Sono andati devoluti a Teleton Luci ombre del Monastero dei Benedettini Nuovamente al via i percorsi serali Lo scorso 31 ottobre È ritornato l'appuntamento Con i percorsi serali Al Monastero dei Benedettini Con una novità tutta dedicata Alla notte di Halloween Per chi dopo la necessaria prenotazione Si è presentato vestito in maschera Presso l'info point di officine culturali Il contributo per la visita guidata È stato di so di 2 euro Fondazione Grimaldi Premiati tre fisici del CNR di Catania Il sindaco di Modica, Abbate Ha sottolineato la necessità Di una più stretta collaborazione Tra l'Ateneo Catanese e il territorio La Pinacoteca di Palazzo Grimaldi Ha fatto da elegante cornice Alla cerimonia di consegna Del premio intitolato a Giovan Pietro Grimaldi Assegnato dalla Fondazione Omonima E dall'Accademia Gioieni di Catania E del premio di laurea conferito Dalla Fondazione e dall'Università di Catania A giovani e brillanti laureati Grazie Tutto questo e molto altro ancora Su www.lobusmagazine.it Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation La scarpa più comoda del mondo La scarpa Callaghan Adaptation Total Grazie al suo sistema unico al mondo Si adatta alla pianta del piede E con una distribuzione omogenea del peso Riduce del 50% la pressione sul tallone E sulla zona dei metatarsi Grazie a Callaghan Adaptation I tuoi piedi tornano a sorridere Migliora la tua salute camminando Con Callaghan Adaptation Arti sonanti Media musicali di Ernesto Giannotta Il gusto che suona è Arti sonanti Piazza Vittoria Emanuele II Catania Telefono 095 35 23 711 Centro commerciale edile Smontaggio amianto e bonifica sito Linea vita Sistemi anticaduta Lavorazione ferro Trasporto conto terzi Materiale edile Strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco Catania Per sopralluoghi Preventivi gratuiti Telefona 095 744 27 40 Il tuo centro commerciale edile www.ccedile.it Baccalluzzo e venti La pirotecnica scenografica Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e venti Via Enrico Pantano 47 Catania Telefono 095 715 0414